Buongiorno a tutti, come forse già saprete ricopro da poco il ruolo di garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio. Ho colto con piacere l'invito a questo congresso che volge la sua 17esima edizione. Ringrazio di cuore tutti gli organizzatori e in modo particolare l'Istituto di Orsofonologia, sempre molto attivo sui temi oggetto del convegno. Ringrazio inoltre tutti gli insegnanti, i genitori, gli psicologi, gli psicoterapeuti e tutti coloro che lavorano per il bene dei nostri ragazzi. Grazie ancora.